Benvenuti su meteogiuliacci.it. Oggi sabato 22 giugno a condizioni di tempo spiccatamente instabile soprattutto sulle regioni settentronali che saranno ancora interessate dalla circolazione di aria fresca legata alla perturbazione numero 2 giunta all'altro ieri sulle regioni settentronali. Un corpo nuvoloso invece lambirà le due isole maggiori e porterà qualche debole pioggia soprattutto sul settore centro-meridionale della Sardegna. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale, vedete appunto questo corpo nuvoloso che interesserà le due isole maggiori e la nuvolosità che si svilupperà soprattutto nelle ore pomeridiane sul nord Italia e sulle zone interne del centro. Andiamo a vedere allora la previsione per la giornata di oggi, condizioni di tempo soleggiato sulle regioni meridionali e sulla Sicilia con qualche addensamento tra il palermitano e il trapanese. Cielo in genere da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso al centro con qualche possibile isolato rovescio sulle zone interne, nuvoloso invece sulle regioni del nord con temporali sparsi che saranno più probabili nella seconda parte della giornata, in particolare su Alpi e Prealpi e marginalmente anche sulle zone pedemontane vicino alle pianure. Per quanto riguarda le temperature queste saranno in lieve calo sulle regioni meridionali e su valori per lo più compresi tra 26 e 31 gradi ma ancora con qualche punta di 34 e 36 gradi sulla Puglia. Ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro ancora una buona giornata.